Dopo una lunga attesa riparta anche il progetto Youth dell'US Avelino 1912. L'Under-19, guidato da Raffaele Biancolino, confermato dopo il buon mercato, guidato da Maria Iello e Giuliano Capobianco con la regia di Giorgio Perinetti, è pronta all'esordio. Nel pomeriggio la formazione bianco-verde affronterà in esterna la Vispesaro. Prima gara dunque lontano tra le muramiche del Partenio Lombardi, stadio che ospiterà appunto le gare casalinghe. Squadra costruita con parsimonia ma soprattutto con elementi di spessore arrivati anche dal campionato di Serie A. Il tecnico sarà affiancato nel nuovo campionato dal preparatore dei portieri Pasquale Visconti, reduce dalla stagione alla Virtus Francavilla al fianco di Antonio Calabro. L'esordio casalingo è in programma per il prossimo 30 settembre contro il Taranto. Non solo primavera in campo nel weekend, domenica scenderanno in campo le formazioni Under-17 e Under-16 al russo di Venticano contro il Giuliano. Si parte dunque da una stracittadina. Il cerchio si chiude con l'Under-16 che partirà ufficialmente il prossimo 1 ottobre in trasferta contro il Pescara. La Mittona potentina. Alla prossimo 4 Le scena del brownie Glorando sto a fare con l'Under-16 chepause delle paese che appunto le fanno che siano e delle piscali. Grazie a tutti